musica 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 sennimo urla anche io non si è che non si sa niente sul tapetola e siamo qui appunto un nuovo episodio di FIFO sul tapetola e oggi ci sarà il classico perchè questa settimana ovvero sabato ci sarà il classico quindi abbiamo deciso di fare il classico anche noi va bene così spanna giusto per il mio avviso, capi, vite e palla oh disco disco giocando con disco di dolare vai così, è giusto, è giusto ma che da molto, è la pezza del mezzo oh vediamo Ronaldo, la bella però, ma che per esempio stavo oh marzello ma non è mamma mia che chiusura marzello che chiusura pure tua mazza quanto sei atto il tabicolato 5 6 è partito bale bale rientra che chiamassini che chiamassini fermo il mobile a volte oh toni oh ma che cazzo qua oh sei che ti ho fatto tonio ernandez 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 vai così si va a vantaggio oggi ve lo senti scenderò mai da qui disco disco se ne va disco allora per cazzo disco fuori disco allora per cazzo vipo oh guarda è lui mimar la palla per Suarez Suarez lo stop Suarez il tiro non va andiamo arrivati in vantaggio dai oh eh luissi luissi muzie luissi oliole uno a uno tutto tuo come state? vai a pò? è bale! è bale! è bale! è bale! è bale! è bale! è illegale non è bale morgo m i mal no che chiusura di vedere uno che chiusura ma la provincia non può essere sulle volle i voli guardare fai schifo non si non si una prende nel pericolo dai che spica guarda a me mandalo bene che corre bene a voi benigno e guarda di chi il il ma che cazzo ha preso perché ho ma che si segnala la da mannata vai via la conto mai continuo vai in porta vai in porta vai in porta dai però ma spalla spalla arbitro cubazzo vai in randezza che c***o che c***o che c***o hai piu suarez suarez ma che c***o e guarda tutti gli impatti sul tuoi va tutto il c***o messi carico a sinistro messi sto c***o vai vai ronardo parti eh oh mi chiamo da fallo guarda tutti i tuoi riballi fai schifo vai bello fai schifo metti bene torta puttana che schifoso tu in serio mamma mamma mia mi poso stai c***o stai mamma mia uno scandalo siamo altri uguali iniesta messi 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 la valla pezzuone e cominci e cominci a correre cominci a correre stai spiegando guarda ma io stavo a c***o poi stai a due il reale prova a farsi sentire il reale con donaldo sai che faccia un gol sai come te ripio dai mandalo guarda che c***o un po' occhio occhio meno male che stava che casuola ma non mamma mia perché nera sei fu che spiegato fossero colano buon irugio oh un'apertura per animare incredibile incredibile o ancora prima ma se ci vanno 1 oddio ricordo io che cos'era che cos'era che cos'era per Dio che cos'era fallo dai vai così vai 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 dai che quasi finita dobbiamo riprendere un gol è un gol lui lui Suarez 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 oh fallaccio eh ma non è fallo non è fallo basta scherzare eh fallo questo bravo che schifo vai disco vai che è partito è partito questo cazzo che troia prova che finisce qui io anche questo episodio è finito noi ci becchiamo al prossimo questa volta ha scolato lui la prossima scolterò io quindi niente bella ciao ciao